e c5 giocata c3 apre tutta la posizione che impedisce anche la rocco lungo attenzione la barra sale torre per d6 wow torre per d6 e alfiere per 5 torre per d6 punisce mamma mia e arriva ragazzi pazzesco attenzione la strategia di nakamura potrebbe essere punita no? questo affronto e la barra sale ancora, cosa succede adesso il totale cavallo c4 attacca sta torre donna per c5 è arrivata, cavallo per d6 il fiero è 26 fabiano come dicevi tu adesso entra in modalità super concentrata posizione stravinta pazzesco un po' troppa presunzione no? forse concedere così adesso l'espressione di Karu non è per niente una bella espressione eh no questo re rischia veramente di essere punito al centro non so esattamente come che donna per c3 o f6 forse che difende la torre poi magari era f7 ancora c'è qualche piccolo problema tecnico fabiano ha 40 secondi eh questo è un dettaglio importante 40 secondi donna b5 che gli fa perdere la rocco perché luca su donna d7 sarebbe eseguita donna e5 eh sì eh no questo è un dettaglio che rende la posizione stravinta mamma mia alfiere 5 attacca la torre e cerca di portare in gioco anche la torre donna per b7 torre di 1 ed è finito ahiaiai pazzesco 30 secondi fabiano che tira un respiro di sollievo eh sì eh sì no abbandona qua wow il caro che ha 57 secondi contro i 30 secondi di fabiano caruana che cerca di pensaggiocci 2 per impedire torre di 1 è matto in c7 è matto ahiaiai pazzesco vediamo oh pazzesco diciamo che non l'ha presa benissimo non